Pari opportunità in pillole 4. Il piano strategico Che cos'è il piano strategico? Il piano strategico è un documento formale che definisce in maniera chiara un'evoca e misurabile le azioni messe in campo anche in conformità ai principi della certificazione Omoni PDR 125-2022. L'impegno strategico delinea obiettivi in ciascuna delle aree prioritarie che sono state individuate e queste aree sono valorizzazione delle competenze, flessibilità, buona pratica, conciliazione vita-lavoro, modalità di comunicazione e relazione. CADF ha inserito nella pianificazione di queste macro aree e nella programmazione attività e azioni concernenti le pari opportunità. Tra le prime, attività formative sulle tematiche delle sdiscriminazioni, del mopping e sui comportamenti e linguaggio contando di avviarla nei prossimi mesi. Poi introdurre il lavoro agile, un percorso più lungo ma attuabile in azienda. Valorizzare le competenze disciplinando gli avanzamenti di carriera in maniera puntuale e soprattutto attraverso dei criteri trasparenti. Sarà per tutti noi una tabella di marcia che ci aiuterà a raggiungere una nuova visione all'interno dell'azienda. Grazie.